Si è riunito questa mattina, 31 luglio, il Consiglio Comunale per discutere e votare un ordine del giorno con proposte della Giunta e di alcuni consiglieri. Su iniziativa dell'assessore Lucarelli, responsabile dei beni comuni e della democrazia partecipativa, approvata la modifica allo statuto comunale che abbassa a 16 anni l'età per partecipare ai referendum consultivi. Rinviata invece alla prossima seduta, la votazione sugli atti che regolano la convenzione tra il Comune di Napoli e le ferrovie dello Stato per la gestione della stazione di Piazza Garibaldi. All'unanimità, il Consiglio Comunale ha approvato l'istituzione di una banca del tempo per la Casa delle Donne. La proposta è venuta dalla consigliera Elena Coccia, che ha sottoposto all'Assemblea anche un atto di indirizzo per la prevenzione e la lotta all'omofobia e alla transfobia, ugualmente approvato all'unanimità. Una delibera di indirizzo che spinge i nostri governanti a trovare un po' di tempo per fare una legge contro l'omofobia ed inoltre prevede l'intervento del Comune come Costituzione di partecivili in tutti i processi di questo genere. Come diciamo, quando c'è stata la legge contro i reati contro il razzismo, si sono potuti fermare addirittura curve di tifosi che gridavano contro Balotelli o contro Cacà, mi ricordo che all'epoca stava in Italia, eccetera. Penso che la stessa cosa valga anche per i sessuofobi di tutto il mondo. Il prossimo Consiglio Comunale si svolgerà venerdì mattina ed avrà all'ordine del giorno la variante al piano regolatore riguardante il porto di Napoli.